Siamo nel recupero, la Fiorentina è avanti 4-1, a Ferrara contro la Spal, incredibile ragazzi, incredibile, incredibile considerando perché al 75esimo eravamo ancora sull'1-1, la Spal segna il 2-1 ma il gol è viziato da un fallo iniziale su Chiesa in area di rigore proprio degli Spallini, quindi l'arbitro Valvar assegna il rigore alla Fiorentina, annulla il gol della Spal con Valoti e sancisce quindi il vantaggio della Fiorentina con il gol di Venitù su rigore, poi altro ribaltamento di fronte, cost to cost di Simeone, super gol dell'Argentina appena entrato che segna il 3-1 e infine dopo un pallone perso dalla difesa della Spal arriva anche il 4-1 di Gerson che non segnava dalla prima partita contro il Chievo, quindi incredibile, incredibile ragazzi come stiamo andando a ottenere questa vittoria, è chiaro che comunque la partita si sia indirizzata dopo il calcio di rigore assegnato dall'arbitro, però era veramente un calcio di rigore sacrosanto perché si vede il difensore della Spal che dà veramente un calcione deciso a Chiesa e quindi ragazzi quello è il rigore, cioè chiamalo come vuoi ma quello è il calcio di rigore sacrosanto. Comunque una Spal che lotta, una Spal che lotta, gioco alla fare con la Fiorentina soprattutto nel primo tempo dove la Fiorentina a livello difensivo veramente balla parecchio, balla parecchio l'avevo detto io nel chiacchiere in viola che senza Pezzella avremmo ballato parecchio e così è stato e sarà finché non tornerà a Pezzella. Per fortuna abbiamo preso soltanto un gol però diversi svarioni, la traversa di Muriel, peccato veramente perché quella poteva essere l'occasione che ci avrebbe portato in vantaggio, poi in vantaggio ci va la Spal invece con Petagna e pareggia con un super gol tra l'altro e di Milson Fernandez, ma insomma una bella Fiorentina nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo insomma partita equilibrata senza particolari spunti. Poi la Fiorentina viene fuori dopo il rigore e riesce comunque a chiudere la partita ed essere cinica, è una vittoria su un campo difficile, è una vittoria importantissima per dare caccia all'Europa perché adesso il settimo posto dista soltanto tre punti quello dell'Atalanta in questo momento. Con una partita in più si scavalca in un colpo solo Torino e Santoria, quindi insomma una vittoria che è davvero una certa importanza, una vittoria davvero molto molto importante. Finisce qua, finisce addirittura in anticipo, la Fiorentina batte 4-1 la Spal, bella prova per gli uomini di Piore, insomma davvero una gran bella vittoria, anche meritata, anche meritata, perché comunque la Fiorentina nella prima parte del primo tempo e nella seconda parte del secondo tempo ha creato più occasioni. Sì, forse un punteggio troppo severo probabilmente per i padroni di casa, però insomma una bella Fiorentina, si rivede anche Simeone che fa davvero un super goal, insomma in generale davvero una bella 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 Fiorentina, soprattutto ancora un po' sprati diciamo questa Fiorentina, però una vittoria che ci voleva ed arriva anche con un punteggio abbastanza rotondo, in maniera insomma abbastanza convincente. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, se ci sono la valanga, se mi piace il video, condividete questo video e iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, sempre forza Viorentina, ci vediamo al prossimo video.